E' il tempestoso uomo Sabato 11 maggio si è tenuto un concerto di meditazione e preghiera sul tema della Grazia Plena presso la Chiesa di Santa Maria di Loreto. Nella celebrazione in onore della Vergine Maria vi sono state quattro antifone mariane cantate dal coro Voce Mea rappresentazione dei quattro tempi annuali liturgici della Chiesa Cattolica. Abbiamo desiderato fare questa sera perché siamo nel mese di maggio quindi al centro della nostra attenzione c'è la Madonna la madre del Signore, la madre di ciascuno di noi che ha certamente qualche cosa da dire anche all'uomo d'oggi quindi prima di tutto Maria è un modello di vita cristiana quindi è modello per ogni cristiano e poi in particolare per ogni donna, per ogni sposa, per ogni madre Maria è certamente un modello da seguire, da imitare e da pregare. Ci saranno dei canti che appartengono alla tradizione, al nostro patrimonio culturale, religioso ci sono molti canti che si riferiscono alla Madonna ci sono dei canti che sono veramente eseguiti in maniera magistrale da questo coro che però ha come stile non solo l'esecuzione ma anche la riflessione, la preghiera. I canti proposti durante il concerto risalgono al tardo medioevo in particolare riproducono una musica arcaica cristiana intrisa di un messaggio educativo per venerare il maggio mariano Dirigo il coro Vocemea che è una espressione musicale dell'associazione Vocemea di Santa Giustina che ha come scopo principale la formazione di giovani e adulti nel canto, nella musica, nella coralità e soprattutto nella funzionalità vocale i giovani alla ricerca di una spiritualità profonda sono attratti da questo tipo di canto cioè la nostra non è una scuola di musica ma educhiamo le persone dal punto di vista vocale ma anche lo spirituale